Il centrodestra in quinta commissione getta giù la maschera. Aveva dato disponibilità per tornare indietro circa la riserva del Borsacchio, invece i sei consiglieri di centrodestra presenti in commissione, nessuno della provincia di Teramo, ha detto no al nostro emendamento. L'emendamento voleva tornare alla posizione precedente, come era stato chiesto dal territorio e in particolar modo dal comune di Roseto con una delibera di consiglio approvata da tutte le componenti politiche di quel consiglio comunale. Davvero una brutta pagina che scrive chi non è del nostro territorio, tant'è che i consiglieri di centrodestra del Teramano erano assenti, adesso verificheremo in aula al prossimo consiglio regionale la posizione dei consiglieri di centrodestra del Teramano. Per quanto ci riguarda la riserva C'è, è quella dei 24,7 ettari, è quella dove insiste la biodiversità, quindi deve essere sicuramente tutelata. Non riusciamo a capire perché prima si fosse allargata in maniera così esponenziale a coprire tutta la collina, i 1100 ettari, dove c'è stato un impoverimento delle attività economiche, soprattutto del mondo agricolo. Non è affatto vero che ci sarà la cementificazione perché per quanto riguarda la regione c'è il vincolo paesaggistico, ci sono i vincoli della provincia, il comune di Roseto che è quello che legifera a livello urbanistico, credo che faccia bene a fare subito una variante per poter bloccare ulteriormente, ma per il resto riteniamo di aver fatto un servizio al territorio e soprattutto di aver ripristinato la legalità.